mamma mia quanto sono inquietante con questa luce va bene ragazzi sono uscito dal cinema, sono anche tornato nel parcheggio di casa mia è tardino, però voglio fare questo video allora ve lo dico subito, mi piace partire con un giudizio sintetico allora innanzitutto cercherò di fare un'introduzione spoiler free poi probabilmente inizierò a parlare senza freni, senza filtri perché in questo momento ho tante emozioni io quando vado al cinema mi emoziono, nel senso più ampio del termine allora il punto è questo, quando comunque inizierò lo spoiler talk ve lo dirò, vi avviserò, non vi preoccupate quindi inizio col giudizio sintetico, il film mi è piaciuto diciamo questo, però sono molto incazzato cioè in questo momento l'emozione che prevale è l'incazzatura per due motivi, vabbè uno semplicemente immediato cioè il fatto che vabbè io sono sempre il solito sfigato amo andare al cinema quando è mezzo vuoto sono felicissimo per il fatto che il cinema fosse pieno per gli esercenti, per il cinema stesso però diciamo nel cinema c'era un silenzio di tomba seguivano tutto il film, tranne nella mia fila dove c'erano 4-5 ragazzini coglioni, scusate il termine che continuavano a scherzare io non so che cosa ci facessero al cinema tra l'altro quando è finito il film sono scappati come se stessero lì forzatamente non lo so, mi chiedo che cacchio ci facessero al cinema anzi se state guardando questo video sappiate che uno di loro, vabbè non ve lo posso dire perché fa parte dello spoiler talk però diciamo poi magari se mi viene in mente dopo ve lo dico quindi il film mi è piaciuto sono incazzato a parte per questo motivo il motivo principale per cui sono incazzato sono i leak cioè è un film che secondo me senza quei leak sarebbe stato avrei apprezzato, mi sarei goduto molto ma molto ma molto di più ma molto ma molto di più cioè ragazzi so che dire questo probabilmente conferma degli spoiler però tanto ormai lo sanno tutti cioè è inutile girarci intorno lo sanno tutti cioè è veramente disarmante questa cosa onestamente mi fa incazzare tantissimo questa cosa perché vuol dire rovinare una cosa irrimediabilmente cioè quello che poi si va a collegare in un certo senso anche al film cercherò di spiegarvi come ho colto io il messaggio del film il film riguarda il multiverso ma lo fa in maniera molto figurativa molto poetica e metaforica secondo me che cos'è il multiverso mentre guardavo il film ho formulato questa frase io sintetizzerei il film con questa frase faccio un po' il poeta in questo momento che cos'è il multiverso se non quel pensiero quella idea confortante che ci conforta di sapere che da qualche altra parte c'è un nostro clone un'altra versione di noi stessi che magari non ha fatto degli errori che noi odiamo che noi vorremmo cancellare per me è un bellissimo pensiero è molto poetico in realtà il multiverso io provo ad scavare un po' anche sulla parte fisica la parte più come dire matematica tra virgolette del multiverso è un concetto in realtà molto più banale però si basa molto sulle probabilità però diciamo a parte questo per molti il multiverso è quello l'idea di sapere che da qualche parte c'è una versione di noi che magari non ha fatto degli errori che è migliore di noi che è famosa che ne so come lo volete intendere voi il migliore tra virgolette no? faccio le virgolette questo lo fa molto bene il film cioè il messaggio secondo me è chiarissimo lo fa molto bene e lo fa utilizzando i cattivi degli altri film cioè per tutto il film mi sono chiesto ma come mai la la sony barra marvel io direi la marvel in primis ha deciso di di andare avanti con questa linea narrativa cioè di recuperare di riesumare i cattivi degli altri film cioè poteva fare il multiverso facendo delle varianti facendo delle varianti di misterio facendo delle varianti di avvoltoio facendo magari inserendo anche nuovi cattivi si lo potevano fare invece no hanno scelto di riesumare i vecchi cattivi come saprete no? saprete dai poster dai trailer scusate magari se sentite dei rumori in macchina perché ci sono dei rumori meccanici vabbè la macchina che si si riassesta diciamo il film funziona cioè funziona però ha dei limiti ha i suoi limiti sentivo in sala uno probabilmente un esperto di cinema che diceva è un film canon è un film canon canon non è la marca delle fotocamere o di quello che è no sono d'accordo diciamo a parte il termine un po' così un po' snob però sono d'accordo è un film perfettamente in linea con questa serie di Tom Holland che non amo devo dire cioè io sono mi piace molto di più uno Spider-Man meno tecnologico meno meno infischiato con gli Avengers devo dire la verità ma questo ho avuto anche forse altre occasioni di dirlo non ricordo o di scriverlo da qualche parte se mi seguite assiduamente però diciamo che tutto sommato il film funziona Tom Holland molto bravo devo dire molto molto bravo a questo punto vi direi iniziamo lo spoiler talk perché vorrei aprire un po' i filtri e dirvi qualcos'altro non voglio che il video sia troppo lungo però cercherò di dirvi almeno gli highlights diciamo così poi voglio aprire la discussione ragazzi commentate cioè io ho bisogno di parlarne con voi perché io vado al cinema da solo cioè lo faccio per mia come dire per mia scelta mi piace andare al cinema da solo vedere il film analizzarlo però poi mi piace anche parlarne quindi ne parlo sicuramente con anche in privato diciamo così però mi piace poi parlarne con voi perché comunque condividete la mia stessa passione quindi commentate fatemi sapere cioè parliamone ragazzi quindi iniziamo gli spoiler in 3, 2, 1 go allora ragazzi sti tre Spider-Man ci sono ci sono e si fanno sentire no? come dicevo prima il film funziona mi ricollego a quello che dicevo prima il film funziona ma ha i limiti di questi film Disney chiamiamoli così per me sono dei limiti Disney proprio marchiati a fuoco Disney cioè Spider-Man sostanzialmente è il salvatore ma anche la causa di tutti i problemi del film praticamente tutto quello che succede tutti i disastri sono generati in fondo da Spider-Man stesso quindi cioè in maniera rocamboleschissima questo è proprio Disneyano al 100% secondo me io mi sento di dire questo no? fatemi sapere se condividete quindi cioè tutti il film funziona ti dici finichissimo bello bello però poi c'era la mia voce interiore che mi diceva sempre però cazzo scusa del termine è sempre stato Peter Parker a causare tutto questo cioè quindi funziona ma diciamo così ma puntini puntini i tre Spider-Man ragazzi allora io se non avesse se non ci fossero stati i leak avrei pianto vedendo Tobey Maguire sullo schermo probabilmente perché Tobey Maguire è il mio Spider-Man preferito ma senza ombre di dubbio anche se devo dire una cosa ragazzi con questo film per me Andrew Garfield ha guadagnato centomila punti è bravissimo cioè lui allora non che io credessi che non fosse bravo quando ha fatto Diameting Spider-Man però secondo me è stato bravo cioè tra i tre Tobey Maguire si vede che è invecchiato ma questo non è una colpa semplicemente boh ho trovato Andrew Garfield veramente molto bravo non so perché si sono abbassate un po' le luci però l'ho trovato veramente molto bravo espressivo credibile credibilissimo veramente anche il modo in cui arrivano i tre gli altri due Spider-Man è veramente rocambolesco cioè si funziona alla fine hanno applaudito tutti in sala ma non credo per il modo in cui sono arrivati ma perché sono arrivati semplicemente quindi scusate tra l'altro sono un po' raffreddato spero non vi dispiaccia la mia voce più profonda del solito eeeh per gli Esmer per gli Esmer vabbè scherziamo un po' dai ragazzi alla fine un video su un film dei supereroi comunque viva Spider-Man allora ripeto i tre Spider-Man alla fine chiaramente si palesano più o meno nella seconda metà alla fine mi è piaciuto come funziona il film ripeto il messaggio è chiaro e forte ve lo ripeto secondo me il messaggio è collegandosi al fortissimo concept del multiverso c'è Zia May sostanzialmente che cerca di passare tra l'altro vabbè ho detto che ci sono spoiler quindi ve lo dico non mi aspettavo minimamente la morte di Zia May non me l'aspettavo minimamente però forse era il caso che succedesse perché questo Spider-Man di Tom Holland non ha Zio Ben e spero che sia l'evento ve lo dico in tutta nostra spero che sia l'evento che fa crescere questo Spider-Man minchione perché purtroppo come dicevo prima Spider-Man questo Spider-Man è la causa di molti dei problemi che succedono nel film porca miseria mi si è spenta la luce scusate vedo di riaccendere le luci il bello della diretta come si suol dire ecco qua sono in macchina mi piace fare il video in macchina perché diciamo è un video a caldo però non vado a casa non disturbo nessuno perché è mezzanotte e mezza quindi ragazzi io spero che questo sia l'evento che fa crescere un po' questo Spider-Man di Tom Holland ve lo dico in tutta onestà sono molto incazzato per i leak è un peccato ragazzi è un peccato ed è un errore che non si potrà rimediare cioè se non in un altro multiverso in un altro universo magari in un altro universo si saranno goduti il film come se lo dovevano godere ma io spero che quello che abbia che ha fatto circolare queste cazzo di immagini spero che se la passi malissimo chiaramente in senso figurato io non auguro niente di male a nessuno però ragazzi ha fatto un danno incredibile io penso che e la cosa che mi sconvolge di più è che non c'è stata una risposta che mi aspettavo dall'internet cioè io mi sarei incazzato avrei voluto vedere tutti incazzatissimi invece non è stato così e questa cosa mi dispiace perché lasciatemelo dire ragazzi so che molti di voi che mi seguite siete giovanissimi e io mi sento un po' un fratello maggiore per voi ma ve lo dico l'assenza di sensibilità di queste nuove generazioni è inquietante cioè io non voglio far non voglio far diventare questo video una paternale lungi da me però siccome mi sento un po' un fratello maggiore di voi di molti di voi che mi scrivete siete giovanissimi e io vi ringrazio perché mi seguite anche da tantissimo tempo e vi ringrazio e vi ringrazierò sempre perché mi fa piacerissimo un po' mi spaventa poi ve lo dico soprattutto perché ho un fratello millennial e ho un figlio sapete che ha tre anni quasi quindi mi spaventa moltissimo l'assenza e l'apatia diciamo delle nuove generazioni vediamo se metto a fuoco intanto è inquietante perché ripeto ragazzi c'era da incazzarsi c'era da incazzarsi e quelli della mia generazione si sarebbero incazzati da morire con degli spoiler del genere si è stato emozionante lo stesso vedere gli Spider-Man insieme vedere Tobey Maguire in particolare anche se invecchiato vedere Willem Dafoe vedere Alfred Molina eccetera persino anche i cattivi di Spider-Man 2 di The Amazing Spider-Man scusate di The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2 anche se devo dire la CGI di Lizard ragazzi soprattutto quando si vede che parla è orribile è proprio brutta 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 ma io non so perché l'hanno fatto così brutto anche Sandman non è che sia proprio credibilissimo si vede tantissimo nel film però la CGI in alcuni punti non mi ha fatto impazzire quindi niente ragazzi il film mi è piaciuto promosso la scena dopo i titoli di coda mi è piaciuta sono in un certo senso contento del fatto che cioè secondo me ci sta che non vedremo lo scontro Tom Holland Tom Hardy probabilmente almeno così sembrano vedremo un'altra versione di Venom io sono contento di poter vedere un'altra versione di Venom perché amo il personaggio e mi piace l'idea di vedere altre incarnazioni di questo personaggio non mi sarebbe dispiaciuto vedere Tom Hardy contro Tom Holland però in un certo senso capisco che anche per motivi di diritti vogliono tenere i due franchise separati cioè stanno facendo un po' quel gioco no? quel gioco ve lo diamo non ve lo diamo ve lo diamo non ve lo diamo poi alla fine non lo danno però per ovvi motivi io penso più di licenze motivi legali ecco diciamo chiamiamoli così la seconda scena dopo i titoli di coda ve lo dico tanto stiamo parlando spoiler diciamo con spoiler è il trailer di Doctor Strange 2 che non mi ha fatto impazzire devo dire la verità cioè lui di nuovo fa questo gioco del multiverso cioè c'è sempre questa storia del dico non dico ve lo do ve lo faccio assaggiare cioè raga sto gioco ve lo dico ragazzi della Marvel se mi state ascoltando sto gioco deve finire prima o poi cioè non è che potete pensare di tenere le persone all'amo per anni su sta storia del multiverso alla fine dateci sto multiverso così com'è cioè datecelo in pieno io penso che arriverà perché c'è stato Kang The Conquerer magari l'ho detto malissimo insomma il conquistatore rivelato dalla serie Loki bellissima tra l'altro quindi beh alla fine dai ragazzi smettiamola con sta storia perché tanto si è capito che volete fare il multiverso quindi facciamo sto multiverso e basta no quindi niente ragazzi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo Spider-Man No Way Home anche il finale mi è piaciuto visto che stiamo parlando ripeto con spoiler vi dico il finale ha senso ha senso il sacrificio tra virgolette di Peter Parker della sua identità lui sacrifica alla fine la sua identità non da supereroe ma la sua identità da uomo da uomo normale questa cosa mi è piaciuta devo dire molti erano delusi cioè molti oddio quelli che stavano attorno a me hanno detto ma no non è che mi piace tanto perché Mary Jane poi non lo riconosce però ci può stare secondo me secondo me ci sta e ci sta anche moltissimo il motivo con cui secondo il quale diciamo arrivano questi cattivi questi cattivi dagli altri universi no cioè si è vero è sempre quello scemotto di Peter Parker che fa come nel trailer si vede nel trailer diciamo in casino l'incantesimo di Doctor Strange però Doctor Strange gli dà una spiegazione che cavolo dici è pausibile siccome stavo facendo un incantesimo per far dimenticare alle persone chi è Peter Parker cioè che Peter Parker è Spider-Man praticamente il fatto che me l'hai rovinato è diventato che tutti quelli che sanno che Peter Parker è Spider-Man dagli altri universi stanno arrivando molto figo devo dire molto figo ha senso queste cose mi piacciono molto anche nella fantascienza quando le cose hanno un certo senso mi piace mi piace molto da ingegnere diciamo che mi piace il fatto che sia ponderata questa cosa qui quindi niente ragazzi sono già 15 minuti e passa di video sono contento però sono anche molto incazzato dai ragazzi sti leak hanno rovinato tutto cioè alla fine se ci pensate l'unica cosa che non avevano fatto vedere nei trailer nei poster eccetera sono sti tre Spider-Man e sono stati rovinati dai leak è un peccato io onestamente spero che la Marvel la Sony facciano dei comunicati incazzati perché anche da parte loro c'è stata pochissima probabilmente per non dare troppo eco ai leak non hanno parlato di queste cose più di tanto però io spero che dopo a freddo dicano che è uno schifo cioè perché la verità è che è uno schifo cioè è uno schifo che non esista più il rispetto per uno che si vuole andare a vedere un cacchio di film che sia stupido che sia dei supereroi perché io ho mia moglie che mi continua a denigrare perché io vado a vedere i film dei supereroi a 36 anni però cioè voglio dire non c'è niente di male non faccio male a nessuno così come tanti appassionati io vi assicuro che la sala era piena era strapiena quindi vuol dire che questi film funzionano funzionano anche perché hanno un loro hanno un loro perché hanno un loro fondamento non sono sono molto entertainment diciamo soprattutto questa saga di Tom Holland di in generale Marvel Disney è molto sull'entertainment però abbiamo visto anche dei film molto ben fatti con dei momenti profondi delle citazioni quindi ci sta secondo me ci sta ragazzi un po' di amarezza per i leak mi dispiace che i miei video sui film sono sempre un po' agrodolci anche quello sui Ghostbusters anche se lì ero entusiasta però entusiasta del film però anche lì c'erano dei momenti agrodolci però è giusto così anche il film stesso questo No Way Home ha dei momenti quasi tristi anche la morte di Zia May è molto enfatizzata è molto triste ragazzi fatemi sapere nei commenti parliamone di questo film visto che ormai è uscito io sono contento comunque che sia uscito finalmente al cinema aspettiamo The Batman ragazzi il prossimo credo che sia The Batman tra quelli che mi mi interessano però sto Spider-Man poteva essere veramente una bomba cioè poteva essere il momento in cui arrivavano questi tre Spider-Man poteva essere sì è stato bello lo stesso ripeto però cioè si sapeva vuoi o non vuoi ero venuto anche se non ho visto neanche il secondo trailer di questo film volente o non volente ero venuto a conoscenza di questi leak perché su Instagram ci giro faccio i contenuti sapete anzi se non mi seguite su Instagram fatemi il favore di seguirmi su Instagram perché insomma mi piace quel social lì devo dire sono molto attivo lì niente ragazzi è quasi sono l'una meno 20 io vi saluto vi abbraccio mi raccomando siate soprattutto ai più giovani faccio il papà il fratello maggiore anzi cercate di poi un'altra cosa però devo dire c'era uno a fianco a me un ragazzo uno di questi ragazzini era seduto a fianco a me stava sempre su Whatsapp oh madonna ma se non riuscite ma neanche per due ma se una persona non riesce io poi sono sicuro che lo fanno anche magari più grandi non vuole essere una cosa di presa di posizione contro le generazioni future o i giovanissime che io adoro però cioè se uno non riesce a tenere Whatsapp chiuso per un paio d'ore è grave ragazzi è patologico vabbè sono il vostro matusalemme di quartiere vi saluto ragazzi peace